Danny, sei tornato da New York alla tua quinta maratona e mezzo. Sì, sono ritornato felice e contento come sempre di aver disputato questa quinta maratona di New York, la 51esima edizione. Un'edizione particolare questa rispetto alle altre, soprattutto all'ultima che tu hai corso. Sì, diciamo che le quattro precedenti differiscono da questa per una sola cosa, il fatto che comunque faceva abbastanza caldo e c'era un'umidità che si avvertiva già nei giorni precedenti, perché oggi ad esempio sono qui a Crotone con una maglia a manica lunga, lì neppure di sera giravamo praticamente come se fosse fine giugno. Abbiamo seguito su Facebook il tuo percorso e abbiamo letto quanto sia stato difficile arrivare quasi alla fine, cioè insomma a metà percorso hai dovuto scegliere e hai dovuto decidere come andare avanti. Sì, partiamo dal presupposto che ogni maratona ha una storia a sé perché devi vedere come ti senti, come è la giornata, insomma quando scendi dal letto con quale piede è giusto, scendi o non scendi. Sapevamo che avrebbe fatto caldo ma non ci aspettavamo una situazione del genere, adesso non voglio imputare tutto al caldo, ma provi a pensare che comunque in genere questa maratona si vince nell'arco di 2 ore 05, 2 ore 06, hanno vinto in 2 ore 08, il brasiliano, non so se avete seguito, è stato primo per circa 1 ore 40, poi per una serie di problemi probabilmente suoi fisici o anche dettati dal caldo, è stramazzato per terra, ho visto un sacco di gente che correva senza canotta addirittura. Io purtroppo a mezza maratona, intorno già al diciottesimo, avvertivo questo caldo, difficoltà respiratoria, ho preso questa decisione di rallentare e portare a termine la gara, perché probabilmente se fossi andato avanti con la velocità che mi ero prefissato mi sarei dovuto fermare perché comunque i crampi ci sono stati, i liquidi se ne sono persi, sì, ho gettato via, parabraccia, tutto quello che era superfluo, purtroppo anche la sciarpetta del crudone, mi sono dovuto liberare dei pesi in eccesso e provare ad andare avanti, era l'unica soluzione che comunque mi ha dato ragione per arrivare alla fine del 42esimo chilometro e 195 metri. Sei arrivata alla fine e questa medaglia nella prova, una medaglia che comunque, come dicevamo prima, è una medaglia sofferta perché la maratona è sofferenza. Sì, paradossalmente è così, cioè la maratona è sofferenza e tutte le difficoltà che si hanno devi cercare di risolverle in corsa. Noi diciamo che spesso è un po'... la rapportiamo alle difficoltà che abbiamo nella vita, no? Ci sono, devi cercare di risolvere i problemi senza abbatterti, non è facile perché poi mentalmente da un momento all'altro, nel momento migliore in cui stai correndo ti vedi rallentare, dici ma cosa mi succede? Devi cercare di capire, ragionare per quanto la mente possa essere lucida perché fino al 35esimo chilometro ci stai con la testa, poi inizi un po' a perdere i lumi della ragione. C'è chi per esperienza riesce comunque un minimo ad avere un barlume di lucidità e portare avanti fino al 42esimo chilometro 195 metri e vi dico che in questa maratona ho visto tante persone che non sono riuscite a fare gli ultimi 200 metri come dal resto è stata la prima volta nella mia vita di maratoneta in cui durante il percorso ci hanno dovuto dare nei presidi medici delle buste con del ghiaccio per raffreddarci, quindi non c'erano proprio le condizioni per affrontare del tutto questi 42 chilometri. La preparazione che fai tu durante l'anno e durante tutto il tuo percorso fa la differenza in una condizione climatica del genere? Allora mi fa una domanda che è magnifica perché la maratona di New York si prepara ovviamente nei mesi estivi diciamo da metà luglio in poi, quindi tu soffri il caldo qui e la speranza era proprio questa di arrivare lì come gli altri anni di trovare un'area più frizzantina, più fresca, in genere vi ho corso le altre quattro volte tra una temperatura tra i 14 massimo esagerando i 16 gradi e ci ho corso sempre bene lasciando stare poi quella del 2017 quando ho avuto quell'incidente di percorso e mi sono rotto il piede. Lavorando con il caldo tu sai per certo che arrivi lì e sei ben idratato perché durante i mesi estivi bevi tanto, c'è quel fresco che ti accompagna quando percorri tutte le vie di Brooklyn, del Queens, di Manhattan, del Bronx e di Harlem purtroppo questa volta non è successo, è successo l'esatto contrario e i miei allenamenti chiaramente mi dicevano l'ultimo famoso lungo di 37 chilometri che ho effettuato nella zona di Papanice per affrontare le salite e le discese mi facevano in realtà ben sperare perché era abbastanza preparato, purtroppo si è messo di mezzo il caldo che ha dato questa mazzata e ripeto non ho corso come volevo ma sono felice comunque di essere arrivato alla fine in 3 ore 21 e rotti i secondi. Mi raccontavi prima che il gruppo di italiani presenti alla maratona era ben nutrito Siamo noi italiani, secondo solo gli americani come presenza, è ovvio siamo lontani dai numeri che si avevano circa 10 anni fa quando c'ero io eravamo tipo 3.000-3.500 italiani, quest'anno 2002-2005 adesso non ricordo con precisione sempre tanta roba però ormai insomma diciamo che c'è stato un piccolo distacco dovuto probabilmente a questi due anni di pandemia a questa crisi globale economica che comunque devo dirvi la sincera verità ho notato, ho toccato proprio con mano a New York perché parliamo dell'Italia, tantissimi negozi chiusi ma lì ce ne sono altrettanti chiusi ho trovato una New York più sporca rispetto alle altre volte e altre cose che preferisco non dire Insomma questa medaglia è il simbolo di New York, la facciamo vedere ai nostri telespettatori eccola qua, tu hai scelto di arrivare fino alla fine anche mettendo a rischio la tua prestanza fisica diciamo che hai voluto arrivare al termine rallentando nonostante le difficoltà Ma sì perché già dal decimo chilometro io ero sudato come sudo qui grondavo avevo la maglia, la canotta per meglio dire il pantaloncino che grondava di sudore non è una cosa normale lì con le famose vecchie temperature ho capito che insomma non sarei andato troppo lontano perché iniziavo già ad avere dei crampi forse per la perdita di liquidi non perché non mi sia idratato anzi nei giorni precedenti ho fatto attenzione a questa cosa perché le temperature erano alte ragazzi siamo stati in manica corta per una settimana quindi ho detto se qui continuo sentivo questo cane che ti morde proprio la sensazione quella ai polpacci un paio di volte non dico che mi sono fermato ma ho sobbalzato ho visto tantissime altre persone avere gli stessi problemi conoscendomi ho detto se ci continuo a provare probabilmente sarò costetta a fermarmi o a rallentare ancora di più vistosamente ho rallentato i crampi ci sono stati comunque ma non straesagerati fino alla fine sul traguardo io in realtà voi non l'avete visto ma ci sono arrivato quasi zoppicando perché avevo questa sensazione del crampo che non mi lasciava mai il prossimo punto di partenza perché il traguardo è una cosa finale non mi piace mai piace sempre iniziarlo il capitolo preferisco dire così ce l'ho in mente ma lo tengo riservato perché dopo questa esperienza spero di poterne fare un'altra abbastanza ravvicinata ma continuo così a testare quelle che sono le condizioni perché una maratona per assorbirla fisicamente dicono che ci possono volere anche sei mesi ecco io oggi a distanza di 4-5 giorni mi sento bene probabilmente perché non l'ho tirata come dovevo cammino tranquillamente non ho grossissimi problemi quindi la ripresa vuol dire che è abbastanza rapida e veloce proprio perché non mi sono spremuto come un limone ho intenzione di fare un'altra cosa però aspetto un pochettino per capire se è il caso oppure se dovesse mai malauguratamente uscire fuori qualche problema vedremo grazie a tutti grazie a tutti